Sei mesi di lavori, sei mesi di passione. Questo è quanto si preannuncia per gli automobilisti bresciani e non diretti in città. Da questa notte chiuderà infatti lo svincolo di accesso alla tangenziale sud. Mentre quella in uscita dalla tangenziale verso il casello era già stato chiuso da qualche mese, i cantieri sulla rampa di missione in tangenziale sono stati posticipati il più possibile. La realizzazione della terza corsia nell'ambito delle opere secondarie relative alla brebemì ora non può più davvero aspettare, ma la viabilità cittadina rischia il collasso. Di qui l'invito esplicito del Comune ad evitare il passaggio in quella zona. Questo significherà anzitutto che quell'area dovrebbe essere il più possibile dagli automobilisti evitate, quindi noi abbiamo, di intesa con la provincia e le aziende che stanno realizzando queste opere, organizzato gli interventi sulla segnalitica stradale che indirizzano percorsi alternativi, proprio per sgravare il più possibile quel tipo di area da un traffico di mero attraversamento. Pertanto per gli automobilisti che utilizzano l'autostrada il consiglio è, se vogliono raggiungere la città, di uscire a Brescia Centro, ovvero se vogliono raggiungere la zona nord, quindi la Valtrompia, uscire all'ospitaletto e seguire la SP19 per andare verso la Valtrompia. D'altro canto l'invito per chi proviene dalla Franciacorta e dalla bassa occidentale verso la città è quello di utilizzare le due linee ferroviarie presenti o comunque i mezzi pubblici. La già difficile situazione che si verrà a creare in questa zona si somma ai lavori per il passaggio della TAV, una concomitanza cronologica delle due opere che non aiuta di certo a migliorare la situazione. Sulla tendenziale ovest siamo riusciti con un bel accordo a ridurre il più possibile la criticità nel senso che si farà sulla tendenziale ovest un ponte ad un'unica campata. Questo significa che rispetto alla previsione iniziale che prevedeva un ponte con un pilone centrale non ci sarà la necessità di chiudere la tendenziale ovest ma soltanto di al massimo rallentare il flusso laddove si tratta di fare le due spalle del ponte e quindi sostanzialmente un restringimento di carreggiata. Inoltre per noi la parte più critica saranno i 60 giorni di chiusura completa del sottopasso di Via d'Almazia. Quello effettivamente sappiamo sarà un problema e quindi pertanto già da oggi abbiamo avviato una serie di iniziative proprio per potenziare l'offerta di trasporto pubblico in quella zona della città. Da qualche mese a questa parte la linea 2 che serve con la zona della città ha implementato fortemente le proprie corse. Abbiamo una frequenza ogni 10 minuti quindi l'invito è all'automobilista che arrivi in quella zona e lasciare giù la macchina, prendere l'autobus 2 che in pochi minuti conduce la metropolitana, zona della marmore e quindi da lì poter raggiungere altre zone della città.